E' terminata ieri la mostra del progetto Amare la Montagna presso l'ospedale di Biella, un'iniziativa che dà continuità al legame tra il presidio biellese e il territorio, volta al recupero dei sentieri, nata nell'anno scolastico 2013-2014 grazie all'intuizione della professoressa Daniela Azzario dell'istituto Itis Quintinosella di Biella. Appassionata di montagna si era chiesta come mai incontrasse pochi giovani durante le sue passeggiate, nelle quali aveva anche notato l'esigezza di rinforzare la segnaletica lungo i sentieri, mancante o scolorita. Da qui l'idea di proporre agli studenti un'attività estiva con la finalità di farli muovere e prestare un'opera di ripristino dei sentieri, imparando al contempo a conoscere il territorio. Il primo anno avevano aderito solo sette ragazzi, il meteo non fu favorevole e furono tracciati solo tre sentieri. L'anno seguente i partecipanti salirono a 42 e il terzo addirittura quota 75. È stato un crescendo, ha raccontato Rita Repetto, docente e referente del progetto Amare la montagna dell'Itis. Tutti riconoscono il valore sociale di questa iniziativa, mantenere i sentieri in buono stato per permettere le escursioni e valorizzare il territorio. Ma a noi sta a cuore il valore educativo forse ancora più prezioso e importante, mettere l'esperienza dei volontari CAI al centro, permettere il passaggio delle informazioni e della passione ai giovani per vivere la montagna in sicurezza e scoprirne tutti i segreti. Il progetto riprenderà dal mese di giugno. Il CAI di Biella ha già individuato i sentieri più bisognosi di manutenzione e organizzato la ripresa dell'attività. Siamo contenti di collaborare con la scuola, ha commentato il presidente del CAI biellese, Andrea Formagnana. Consente la riqualificazione a beneficio dei biellesi. Siamo altrettanto felici che sia stato possibile realizzare questo allestimento presso l'atrio dell'ospedale di Biella.